Buongiorno e benvenuti, sono in un albergo di Napoli, stiamo cercando, con Panorama d'Italia abbiamo fatto un incontro ieri sera, però il punto fondamentale, come tutti voi sapete la mattina, è la zuppa di porro per vedere che cosa è successo sui giornali. Io ve la dico molto chiara e precisa, in maniera tale che, un po' come avvenne, vi ricordate, con il rimborsopoli, in cui dicevo siamo sicuri che c'è tutto questo scandalo di rimborsopoli, poi erano assolti quasi tutti quelli di rimborsopoli, non tutti ma quasi tutti, quindi sono questa roba dello stadio di Roma mi sembra una grande cazzata. Ve lo dico con grandissima franchezza, perché mi sto leggendo i giornali e mi sto leggendo le carte, qua ci sono ipotesi di corruzioni, 9 arresti, 16 indagati, il presidente della CEA che si dimette, ma avete capito chi ha pagato chi, dove sono arrivati i soldi, quali bonifici, per che cosa? Sì, sicuramente ci sarà stato un problema, non lo metto in dubbio, ma in questo paese è diventato impossibile avere, cioè se uno ha un appalto pubblico deve chiudersi in una casa, blindato nella casa, non incontrare nessuno, non pagare nessuno, non leggere nessuno, aug, tocchi, Giorgio, insomma bisogna bloccare tutti i propri rapporti sociali. Perché? Sto esagerando. Oggi è diventato titolo dei giornali che il costruttore Parnasi si è visto in una cena con Giorgetti, l'uomo forte della Lega. E beh, che problema c'è? Uno degli uomini più ricchi di Roma, uno che ha interessi nelle costruzioni, non si vede con un politico importante. Abbiamo visto dei soldi che sono passati da Parnasi a Giorgetti? Abbiamo visto che gli ha assunto la figlia? Abbiamo visto che gli ha pagato un Rolex o gli ha regalato una macchina? Abbiamo qualcosa di questo? No, il fatto che lui si sia visto con Giorgetti è già pietra dello scandalo. Stiamo attenti, vi prego, stiamo attenti, perché capisco che a voi vi stanno antipatici quelli del Movimento 5 Stelle e il governo giallo-verde, ma se continuiamo così è Robespierre, Robespierre, io lo dico a quelli della destra che godono come dei ricci perché, diciamo, di forze etarie o del PD perché hanno beccato questi. attenzione, perché così non il garantismo va a forzi fottere, ma andiamo sul terreno con i quali i grillini hanno costruito il loro successo contro di loro che poi si riverserà anche contro di voi. Ma vada avanti, oggi leggo un titolo, il governo lo faccio io, sarà un'intercettazione di questo Parnasi. Ma di che stiamo parlando? Un'intercettazione tra migliaia di cazzate che uno dice al telefono. Io avrò detto magari una volta al telefono, se non ci fossi io Mediaset crollerebbe. Non l'ho mai detto perché non lo posso neanche immaginare, ma se l'avessi detto e sentisse questa battuta qualcuno, che cosa penserebbe? Penserebbe che io sono il dominus di Mediaset o che sono un narcisista? Ecco, forse un narcisista potrebbe pensare uno che è questo Parnasi. Beh, poi la cosa straordinaria è il fatto quotidiano che siccome è ovviamente uno di quelli che quando sente un po' di puzzetta dovrebbe subito è lo scandalo, subito gli arresti, subito la pulizia, subito onestà onestà, buongiorno Donatella, insomma il giornale dei cattivoni, con chi se la prende adesso in tutto questo scandalo romano? Io sono garantista e continuo a essere garantista e penso che dietro a tutto questo fumo ci sia poco arrosto. Loro con chi se la prendono sul fatto che Parnasi, l'uomo dello stadio di Roma, avrebbe dato 50.000 euro al Partito Democratico che poi sarebbero arrivati alla campagna elettorale di Sala. Ma vi rendete conto? Cioè abbiamo fatto abolito il finanziamento pubblico ai partiti e quelli del fatto rompono i coglioni perché un imprenditore ricco dà dei soldi al PD, ovviamente per poter avere un rapporto con loro, va bene? Gli dà questi soldi tutto regolare, tutto bonificato, con il nome della moglie, secondo la legge, beh che problema c'è? Se la legge la prevede, qual è il problema? C'è una stecca che abbiamo visto che ha dato? Gli hanno dato lo stadio del 1000? No! Ma il fatto se la prende con lui, non è che pensa a Lanzalone, non è che pensa alla Raggi, no! Io non penso neanche a loro perché secondo me non c'entrano. Con chi se la prende? Se la prende con il finanziamento fatto a Sala. E che cosa dice? Io la trovo incredibile. Lanzalone, che è l'uomo che è stato scelto da Grillo, prima per accomodare le questioni di Nogarin a Livorno, poi a Roma, ha fatto il consulente a Roma e poi viene piazzato, questo sì è un piccolo scandalo, fa il consulente, l'avvocato della Raggi e poi a un certo punto la Raggi per ricompensarti, cosa fa? Invece di pagarti perché non può, cosa fa? Ti piazza la presidenza dell'ACEA, no? Questo è straordinario. Allora, che cosa succede? Cosa dice? Io vi giuro, l'ho letto oggi sul Fatto Quotidiano, Travaglio. Lanzalone si è dimesso da presidente di ACEA su input di Di Maio. No, scusami, l'hanno arrestato, l'hanno messo in galera e tu mi dici che è su input di Di Maio che si dimette dalla presidenza dell'ACEA e anche se così fosse, cioè mi sta dicendo che Lanzalone si dimette su input di un ministro dello sviluppo economico che gli dà un input mentre è in galera di dimettersi, cioè in realtà lui non risponde agli azionisti dell'ACEA, non risponde al Consiglio Comunale, ma risponde a un politico che gli dice cosa deve fare nel bene e nel male. Eh, sarebbe altrettanto grave, caro Travaglio, no? Ma ovviamente non gliene importa nulla, cioè l'idea di Travaglio sul fatto è che tutta è colpa che questo Lanzalone pagava il PD, pagava Sala e che si è dimesso perché Di Maio, bravo e forte, l'ha fatto dimettere. Insomma, io la trovo una cosa incredibile. Io voglio vedere, voglio chiedere a voi quali sono le prove di questa corruzione. Vi rendete conto che hanno indagato il sovrintendente perché ha tolto un vincolo a Tordivalle, che è una cagata pazzesca a Tordivalle, è un posto morto dove se non fanno lo stadio rimarrà morto. Questi deficienti gli hanno pure tolto un po' di palazzoni che a differenza del mio amico Sgarbi sarebbe diventato una city life come è avvenuta a Milano, sarebbe arrivato un distretto di grattacieli e chi se ne fega rispetto a quella merda che c'è? Il sovrintendente per una volta nella sua vita toglie il vincolo, hai dimostrato che ha preso i soldi, c'è un bonifico, gli hanno assunto la figlia? No, solo per aver tolto il vincolo viene indagato. Io la trovo una cosa per cui in Italia non si può fare niente nei prossimi cento anni. Già i sovrintendenti dicono che non si deve fare nulla, poi se vengono indagati quando tolgono un vincolo ce la siamo giocata e là tutti quanti, no? Destra e sinistra è colpa della Raggi, la sinistra è colpa di Sala, tutti che godiamo come dei ricci, poi tanto nelle nostre città non si farà un cavolo per i prossimi vent'anni, siamo tutti, tutti contenti di come va, perché no, onestà, 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 poi quando capita a loro questa marea, che cosa risponde Virginia Raggi? La trovo una cosa che mi fa venire il sangue al cervello, Virginia Raggi riesce a dire mi attaccano perché donna, giuro, giuro, è come un pezzo dell'annunziata, è vero quello che vi sto dicendo, Virginia Raggi come si difende? Mi attaccano perché sono donna. Io direi che Virginia Raggi è un disastro, un'incompetente, presuntuosa e arrogante, presunzione e arrogante, che dovrebbe farsi ricoverare, vai da un'altra parte, un ricovero, in senso non nel comune di Roma, una che è indagata lei, indagati i suoi amici, ma va bene tutto, sarà una donna, è imbarazzante, cioè io pensavo che con Marina avessimo raggiunto il minimo, no, con la Raggi che cosa dice di tutta questa vicenda? Mi attaccano perché sono donna, a me mi viene mi viene quasi rabbia, non dico tristezza, quasi rabbia, poi c'è tutta la storia straordinaria della Lombardi che sarebbe stata finanziata anche lei, la Lombardi e l'antiraggi e avrebbero chiesto a Parnasi di finanziare anche la Lombardi, ma il finanziamento pubblico ai partiti che non esiste più perché voi grillini non lo volevate più e voi del PD vi siete accodati, ci dovrà pure essere se uno vuole fare le campagne elettorali e siccome gli hanno chiesto il finanziamento alla Lombardi, a chi lo chiedono? Ai morti di fame? A me? No, lo chiedono i grandi ricconi del paese, a chi lo vanno a chiedere? A Parnasi, a Caltagirone, Caltagirone ovviamente col messaggero, oggi lo prende in giro un po' il fatto perché dice quanto gode che gli hanno fatto fuori un suo concorrente. Vabbè, insomma di questa vicenda l'avete capito, io la trovo una vicenda grottesca in cui più che il codice di procedura penale è la solita situazione di rapporti romani che anche con il Movimento 5 Stelle non cambiano. No, ricoverare no, Nicola dice no, ricoverare in senso di trovarle un ricovero, non in ospedale, non un TSO, cioè sia ben chiaro, io non voglio ricoverare nessuno, bisogna trovare un ricovero che non sia il Comune di Roma, cioè un ricovero può essere casa sua, può essere casa del suo fidanzato, bisogna trovare un modo per, come diceva oggi Travaglio, vogliono che si dimetta la Raggi, attacca Repubblica che ieri Corrizzo chiedeva le dimissioni della Raggi, no, si deve dimettere Sala perché il Partito Democratico ha ricevuto un finanziamento legittimo, legale e perfetto da Parnasi. Io non so la logica per la quale si dovrebbe dimettere quello là e semmai non la Raggi, per la quale sotto al naso gli avviene di tutto. La Raggi tra l'altro sotto al naso, come nota oggi benissimo il tempo, solo ieri si è accorto che c'era Movimento 5 Stelle e Alleanza Nazionale, no, scusatemi, Fratelli d'Italia, che vogliono intitolare una via ad Almirante e lei ha sospeso la cosa. Mi sembra veramente ridicolo che a Roma non ci sia una via intitolata ad Almirante, non riesco a capire perché ci debba essere un problema in una via intitolata ad Almirante, proprio non riesco a capire, essendo stato un grande uomo politico del passato, con tutti i suoi errori e tutte le sue vertù, come tutti gli uomini politici hanno. Fine del quantitative easing, la cosa vera e importante della giornata, cioè sostanzialmente la Banca Centrale Europea, sapete, fino dal 2015 ad oggi ha comprato una quantità di titoli di Stato in Europa pari a 2.500 miliardi, cioè tutto il debito pubblico italiano spalmato sui 19 paesi che fanno parte dell'area Euro. Prima comprava 60 miliardi al mese, poi 80 miliardi al mese, ora compra 30 miliardi al mese di titoli di Stato e fino a dicembre arriverà a scendere a un decalage fino a 15 miliardi. Questo fa sì che i tassi di interesse rimangano bassi e che l'Italia sappia sempre che c'è un compratore quando deve vendere i suoi tassi di interesse. Pare, secondo quello che leggo sul Corriere della Sera, che questo ci ha fatto risparmiare fino ad ora 40 miliardi in tassi di interesse in meno. Fantastico! Il punto vero è perché allora oggi i mercati non sono disastrosamente in ribasso visto l'annuncio che questo quantitative easing verrà cancellato. Ve lo spiega bene Marco Nato oggi sul sole 24 ore che ci spiega che continuerà a mantenere i tassi di interesse bassi la Banca Centrale Europea, cioè intorno allo zero e soprattutto quando scadranno i titoli di Stato che ha in pancia la Banca Centrale Europea e ne è una montagna, con quelle scadenze comprerà nuovi titoli di Stato. Cose tecniche per farvi capire che comunque questo quantitative easing l'hanno cancellato ma molto leggermente. Draghi, insomma, parliamoci chiaro, nonostante voi lo odiate tutti, ci ha fatto un grande favore fino ad oggi all'Italia, soprattutto e all'Europa in generale. Conte va da Macron e qui devo dire che la sintesi di questa cosa è tra due giornali. Uno è la verità, per dare il senso di quello che è avvenuto, la verità di Belpietro che dice che Macron si piega all'Italia, quindi c'è stata una telefonata ieri e cose di questo. Invece, libero Dio dice addio dignità. Il nostro Conte si è fatto incastrare dal bulletto francese dove si presenta in ginocchio. Allora, chi ha vinto l'uno all'altro? Boh, non ho la più ballida idea. Quello che è certo è che Conte andrà, dopo tutto il grande casino che abbiamo fatto e dopo il vomitevole, il problema è che quello che rimane, parliamoci chiaro, è che loro dicono che noi siamo vomitevoli e che, a parte la telefonata che ha fatto Macron a Conte, pubblicamente nessuno ha detto che non siamo più vomitevoli. In fondo l'impostazione di Libero è abbastanza corretta, perché a una dichiarazione pubblica forse ne sarebbe dovuta seguire un'altra di tono diverso per metterla un po' più o meno pari e questa non mi sembra che ci sia stata. Secondo un retroscena del Corriere della Sera ha vinto anche l'asse Conte con Mattarella, mi sembra che sia Verdrani che lo scrive, Mattarella ha detto ma che sta a fare? Vai, non fare troppo casino che ne avete già fatto troppo. E quindi ha vinto la mediazione di Mattarella. Video di Diba che dice sono in America, molti di voi mi chiedono con quali soldi posso campare qua, sono cazzi miei. Caro Diba, purtroppo non è così, perché sono cazzi miei. Voi per tanto tempo a chiunque gli avete chiesto di dire cosa fanno, come non fanno, i dirigenti, dove prendono i soldi. È vero che tu non sei più un parlamentare, però è anche vero che tu sei un uomo pubblico e quindi tu agli uomini pubblici hai sempre tenuto e chiesto conto dei propri redditi. A me di questa roba non me ne fotte assolutamente nulla. Dice Silvia, soldi della Mondadori, lui ha smentito di aver preso quella cifra incredibile, pari ai 400 mila euro della Mondadori, dice neanche Dan Brown prende tutti quei soldi, ma pare che con i due libri abbia preso 50 mila euro e che faccia un reportage per il Fatto Quotidiano. Questo è quanto per oggi, se vi piace questa zuppa condividetela e noi ci vediamo sul sito nicolaporro.it per tutti gli altri aggiornamenti e domani con la zuppa. Un grande abbraccio, un saluto da Napoli e condividete se vi piace. Ciao!